Bentornati su Nom Mammazzo e bentornati nella rubrica Retro Dylan. Oggi parliamo di Golconda, il numero 41 pubblicato, pensate per la prima volta, il 14 febbraio 1990. Prima di cominciare, se ancora non mi conoscete, vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando qui sotto, attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i miei prossimi video che usciranno e di condividere il video con tutte le persone che amano Dylan Dog. E commentate qui sotto con quello che vi ha dato questo storico numero di Dylan Dog. Sempre qui sotto in descrizione, oltre a trovare tutti i miei social cliccabili per potervi registrare anche su Instagram e sul sito Viola eventualmente, vi lascio anche tutte le citazioni che ho trovato qui dentro e che magari adesso parlando potrebbero anche non venirmi in mente tutte, però se queste citazioni fanno riferimento a qualcosa che si può acquistare su Amazon, vi metto qui sotto dei link Amazon in modo che voi potete appunto acquistare la fonte da cui è tratta ispirazione qua dentro. Partiamo subito con la copertina, copertina di Claudio Villa dal titolo Golconda che si ispira all'omonimo dipinto di Magritte, appunto Golconda, con questi uomini in bombetta che piovono dal cielo. Ve la metto magari, vi metto magari in descrizione un link per vedere il ritratto, magari ve lo metto qua in descrizione. Però Golconda è anche una città dell'India, una città dell'India molto povera, dove in questa storia immaginaria si trova una delle porte, una delle bocche per andare al centro della terra dove c'è appunto l'inferno. E dal momento che l'inferno è al centro della terra, non per forza appunto Golconda è l'inferno, ma l'inferno può essere ovunque. E anche in un piccolo luogo, in un piccolo bosco inesplorato della campagna londinese, dove appunto due giovani ragazzi fanno probabilmente per la prima volta l'amore, ma non essendo sposati sono quindi nel peccato perché le regole dell'inquilino del piano di sopra sono così e quindi in questo modo spalancano le porte di Golconda scatenando il panico a Londra. Nel frattempo Dylan Dogg esce a fare due passi con il suo strampalato assistente graucio e scopre questo nuovo particolare locale, un locale metal che si chiama proprio Inferno, scritto in italiano Inferno, dove conosce Ambercutt. Dylan Dogg e Ambercutt, due opposti che si attraggono. Ambercutt, l'ennesimo stereotipo sclaviano di ragazza bellissima con una catchphrase che in questo caso è brutta miseria. Abbiamo visto che altre sclavi girls hanno altre frasi, altre intercalare, altre frasi fatte e altri modi di parlare specifici perché appunto Sclavi scriveva in questo modo caratterizzando perfettamente i personaggi non per forza facendogli parlare un italiano corretto. Vediamo che appunto Ambercutt non parla un italiano assolutamente corretto, è un italiano parlato, non scritto e ha questo intercalare brutta miseria. che leggerlo adesso nel 2021 è quasi fastidioso, ma allora era proprio una caratterizzazione specifica di un personaggio. Allo stesso tempo è fastidioso leggere alcune cose nel 2021 come vedere come questa bella ragazza, questa Ambercutt sia tanto bella quanto stupida, ma all'epoca la, diciamo, la fan fatale dei fumetti sclaviani una volta su tre era così. Un'altra cosa che fa molto strano a leggere adesso è le battute sulla politica, per esempio sulla Thatcher o sui potenti, mentre adesso fa molto Boomer una battuta del genere. Negli anni 90 era la normalità fare una battuta di questo tipo e le battute sulla Thatcher nei numeri di Dylan Dogg si sprecavano ed è anche molto divertente come facessero appunto battute sulla Thatcher dal momento che Dylan Dogg, nonostante sia un fumetto italiano, è sempre stato ambientato a Londra. Un'altra cosa invecchiata un po' male di questo numero è il fatto che quando sono nel locale Metal Graucio dà un giudizio molto, molto negativo su gli abitué del locale, su come solo perché sono lì dentro e sono dei brutti ceffi da vedere si facciano di eroina. Ora capisco che negli anni 90 appunto era tutto molto diverso, però rileggerlo adesso fa davvero un certo effetto. Però a parte queste due o tre piccolezze che abboniamo al Buon Sclavi perché ha uno stile di scrittura tutto suo che è figlio di quel tempo ovviamente, non si può certo contestualizzare in un contesto odierno come va tanto di moda adesso dove si contestualizzano vecchie serie tv, vecchi film nel presente per condannarli. Non voglio assolutamente fare questo, volevo solo comunicarvi appunto che se lo leggete adesso potreste trovare delle cose che vi fanno un po' storcere il naso ma dovete percepirlo per la bellezza di allora, per la bellezza degli anni 90. Per quanto riguarda invece i disegni sono davvero fantastici. Allora, mentre appunto la copertina è di Claudio Villa e la sceneggiatura ovviamente è di Tiziano Sclavi, i disegni sono di Luigi Piccato. Sono anni 90 ma potrebbero tranquillamente essere disegni per i giorni nostri, cioè del 2000, sembrano, hanno un tratto talmente netto, talmente pulito che seppur fatti per il bianco e nero andrebbero benissimo anche colorati come Dio comanda al computer e addirittura sembrano quasi disegnati al computer. Guardate la bellezza dell'espressione facciale di Ambercat. Come tutt'oggi non è assolutamente invecchiato questo stile di disegno. La griglia è anche abbastanza classica, una griglia a sé è normalissima, ma ciò nonostante il disegno non sa di vecchio. Oltre ad avere dei disegni magistrali c'è anche quel caro e buon vecchio splatter che ho già nominato il mese scorso quando ho parlato del mio primo Dylan Dog, il numero 51, Il Male. Anche qui lo splatter fa da padrona. Abbiamo i tanto cari occhi amati da Tiziano Sclavi, ce li mette un po' ovunque. Qui è un vero e proprio, chiamiamolo demone, a forma di occhio con un diametro di tre metri che dopo aver ucciso i due innamorati in modo orrendo prende il loro tandem e se ne va in giro per Londra. Poi abbiamo gli uomini in bombetta che sotto la bombetta nascondono un cervello a vista, le cui spire sono talmente taglienti da poter tagliare a fettine un essere umano. Il solo pensiero di questi uomini in bombetta può far rivoltare come un calzino una persona, hanno una forza tale da poter aprire un ombrello all'interno di un corpo umano. Diciamo, è tutto molto piacevolmente splatter. Quello splatter che è bello vedere solo in un fumetto, diciamo, e non in un film, perché lì sarebbe troppo esplicito. A differenza dei numeri moderni di Dylan Dogg, specie quelli di Recchioni, dove si gusta vedere la storia che procede, perché Recchioni racconta di più le cose a livello televisivo, a livello di serie tv, quindi è un racconto per immagini, Tiziano Sclavi raccontava le storie per i balloon, per i dialoghi, diciamo, e il numero è piacevolmente lungo, nel senso che abbiamo un buon primo atto, una parte centrale, poi c'è la parte dove si va appunto a Golconda in India, per poi il finale un po' così sospeso, un po' quasi fantasy, che spesso accompagnava appunto i numeri di Sclavi. Forse perché appunto non sapevano gestire la lunghezza e c'erano sempre questi finali tagliati, però hanno dato questa caratteristica dei Dylan Dogg più di successo anche a causa di questi strani finali. Il tutto appunto intervallato da queste scene super splatter fa di Golconda uno dei numeri più cult degli anni 90. Vi ricordo che negli anni 90 Dylan Dogg era oltre il fumetto, trascendeva, era talmente famoso che non si poteva non conoscere Dylan Dogg. Dylan Dogg aveva un eco mediatico paragonabile forse solo allo zero calcare dei giorni nostri, anche se ovviamente trattava argomenti diversi. Ora chiaramente tutta quella risonanza mediatica non c'è più, ma all'epoca Dylan Dogg era davvero un fenomeno culturale. Tiziano Sclavi e Piccato citano anche un fumetto belga che si chiama Blake Mortimer, in cui appunto vediamo il personaggio del professor Mortimer, lo scappiamo che è una citazione a un fumetto esterno perché il disegno è totalmente diverso, di come venga rapito da queste fate che sono parte dei vari spiritelli sfuggiti a Golconda. Citano anche un sacco di fonti come la critica alla ragion pura di Kant, la città Graucio nel locale Inferno, se la trovo ve la metto qua sotto in descrizione. Citano anche una poesia che è l'ultimo cataclisma di Fedora, scusate se ogni tanto leggo perché non vorrei sbagliare, sempre se la trovo ve la metto in descrizione. Come abbiamo già detto si cita già dalla copertina Golconda, il dipinto di Magritte, quindi ecco, un'opera davvero davvero ricca. Un'opera davvero stralunata, seppure comunque con una trama lineare che ha un inizio, un intreccio e una fine, quindi nulla di troppo psichedelico, se non per i contenuti che vediamo a livello grafico, cioè vedere questi mostri che fanno pezzi in modo orrendo gli esseri umani, ma c'è sempre anche qui la classica morale di Laniata, proprio quando parlano con il diavolo, per poi appunto non ricordarsene più perché è un'esperienza che non gli lascerà memoria, il diavolo stesso gli dice, ok, i miei demonucci che sono scappati da Golconda hanno ucciso brutalmente qualche essere umano, ma tutto quello che avete fatto voi, voi umani nella storia, non è niente in confronto, perché dice che appunto non c'è nessun bisogno di lui per scatenare le forze del male sulla Terra, gli umani ci riescono benissimo da soli. Un'altra volta si fortifica il concetto sclaviano di come il mostro non sia il mostro ma sia l'essere umano. Divertente vedere il siparietto tra Bloch e Graucio, che non si sopportano ma il loro affetto per Dylan li fa unire per cercare appunto il nostro protagonista in questo bosco. Molto divertente anche come il maggiolone di Dylan Dogg, che già era vecchio negli anni 90, come riesca ad andare dall'Inghilterra fino all'India senza problemi, senza problemi si fa per dire. E' fantastico anche come gli omicidi dei signori in bombetta siano in qualche modo legati al denaro, al fatto che comunque rappresentano proprio l'uomo in giacca e cravatta, l'uomo tipico, l'uomo londinese con la bombetta distinto e questo uomo distinto è contrapposto all'efferatezza dei suoi omicidi legati a pochi spiccioli tra l'altro. Vediamo come per pochi spiccioli praticamente sventrano tutte le persone all'interno di una banca, come sommergano d'altro canto, come sommergano di denaro un venditore di auto al punto da sopraffarlo e queste banconote che avvolgono questo venditore d'auto come degli scarafaggi nel film della mummia mangiano il povero venditore non lasciando più niente. Ecco, queste cose sono molto raccapriccianti ma nulla è dovuto al caso. Sono tutti piccoli messaggi che Esclavi voleva mettere nei suoi fumetti per dare dei piccoli messaggi che non erano neanche tanto nascosti. Ecco, quindi un numero in tutto per tutto che dovete avere. Se amate Dylan Dog dovete averlo, c'è anche un sequel, chiamiamolo così, che si chiama La Quinta Stagione, Se Golconda. Se questo video su Golconda vi è piaciuto, l'ho voluto far uscire proprio a febbraio perché uscì a febbraio tanto tempo fa, se vi è piaciuto magari parlerò anche in futuro della quinta stagione. Non credo il mese prossimo, vediamo, magari un pochino più avanti. Io come sempre vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Noi come sempre con l'inchino e con l'imbuto ci salutiamo e ci diciamo arrivederci al prossimo video.